D'accordo, non ho l'età per un libro di questo tipo, ma lo consiglio lo stesso. Si tratta di un libro di narrativa illustrato per bambini da dieci anni in su, pensato per tutti quelli che approdano alla scuola media e incontrano un nuovo mondo. Una storia brillante, di puro relax, sulle difficoltà insieme sulla colorata bellezza di crescere sugli amici e sul rimpianto dei tempi andati degli elementari. Insomma, disavventure, piccole vittorie e tanti tanti cambiamenti.